Terza prova scritta oggi per gli studenti alle prese con l'esame di maturità. Dopo il tema di italiano di mercoledì e la seconda prova di giovedì scorso, questa mattina gli studenti hanno affrontato il cosiddetto quizzone multidisciplinare, preparato da ciascuna commissione d'esame e dunque diverso per ogni istituto. I candidati si sono trovati di fronte domande e risposta chiusa, trattazioni sintetiche aperte ed anche esercizi. Quattro le materie oggetto d'esame, a rigore segrete fino all'inizio della prova, ma in realtà intuibili per gli studenti, in quanto spesso anticipate dai professori. In ogni caso restavano escluse italiano e la materia oggetto della seconda prova, già verificata in precedenza. Scienze, filosofia, inglese e arte. Abbastanza bene, speriamo, speriamo almeno un undici, dodici, quindicesima, anche meno. Filosofia, inglese, poi scienze e arte. Bene, speriamo. Filosofia, proprio speravamo storia noi a dire la verità. Diritto, spagnolo, inglese e matematica. Abbastanza bene, penso. Diritto un po', gli altri no, erano fattibili. Filosofia, psicologia, matematica e inglese. Beh, era abbastanza facile, almeno io l'ho trovato facile. Ma non tutti gli studenti possono già dirsi sollevati dal peso della terza prova. Non ce l'abbiamo mercoledì perché nel liceo artistico la seconda prova dura tre giorni. Allora, c'è una prima fase, per quanto riguarda il mio indirizzo, che è grafica, in cui si fanno i progetti, quindi si fanno i bozzetti, le idee. Il secondo giorno si realizza a mano l'idea pensata al primo giorno e il terzo giorno si realizza col computer, coi programmi. Poi, una volta pubblicati i risultati delle prove scritte, misurate in 45esimi, 15 punti per ciascuno, dal primo luglio partiranno gli esami orali, ultimo scoglio per i ragazzi prima delle sospirate e meritate vacanze estive. E poi è finito tutto, grazie a Dio.